Oggi il Cai di Chiti dai Prati di Tivo e attraverso l'impianto della Seggioia risalirà la Valle delle Cornacchie dalla Madonnina. Destinazione corno piccolo con la ferrata danesi. La città è stata un'unica per la terra di Tivo e la terra di Tivo. il sale San Nicola, oggi Foschia e tutta la catena del Gran Sasso, grande affluenza. Superata la sella dei due corni, stiamo risalendo il corno piccolo per la via Danesi, da qui tutta la Varmaone, laggiù campo del Venacuaro, le Marecoste e qui l'Intervese, giù giù fino alla grotta dell'Oro, della Varmaone. Iniziamo la via ferrata. Grazie. Guarda la gente sul corno grande. Buon sesso! Lo mingete eh! E' ruota Danesi! Scusi perché le si comprate usate? Quella nuova, non è quella? Cerca di non metterti in direzione dove possono cadere i piedi. Di quelle delle Dolomiti. Due cose... Quello sport è lì che è combehindola. Grazie a tutti. 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 Dopo, dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.